Il tempo ha venuto per la Mercedes per lanciare il suo primo urbano full elettrico. L'elettrico Citaro è equipato con un ZF elettrico con un output di 250 kilowatt. La scelta di batteria può aiutare un massimo di 230 kilowatt-hour per un'autonomia tra 150 e 200 km. Roland Charles, Ingenieria di Damner Bus, dove l'elettrico Citaro sarà produzione? Sarà produzione su una linea dedicata? L'elettrico Citaro sarà produzione in la planta di Mannheim. Il combustibile e l'elettrico del combustibile e l'elettrico sarà produzione da parte per parte. Dependendo del mercato volume e delle vendere, avveniremo, probabilmente avveniremo alcuni cambiamenti di processi, ma questo è una cosa di sviluppo di sviluppo. avveniremo, in futuro, anche una versione con la central drive? E' il mercato di lavorare sul sviluppo di un'elettrico in casa? Prima di tutto, abbiamo avuto molto buona esperienza con il nostro ZF-Axel in i nostri progetti precedenti, come i combustibili o i combustibili. avvenimenti. Abbiamo usato questo Axel perché è un componente proveniente. Inoltre, il design di compagno e il risultato del spazio e del peso aiutano a aumentare la capacità di sito. Inoltre, avveniremo un momento sui batteri. Quali è il tuo servizio? Rapid Charging? Le nostre batterie vengono da un produttore speciale chiamato Acasol e quindi abbiamo molte opzioni di servizio. Il primo è il servizio mobile con up to 80 kilowatts poi abbiamo la stazione di servizio che ha avuto 150 kilowatts e, ovviamente, durante il uso del carico dove recuperiamo l'energia mentre drivingo il carico e, a request, il citaro di electrico può essere equipato con pantografi o con passporti per l'energia intermedio sulla linea. Inoltre, nel 2030 la parte del mercato di bus urbano in Europa sarà elettrica. Le drive hybrid possono giocare un role durante la transizione. Mercedes, fino adesso, ha presentato il citaro mild hybrid. Ci saranno, in anni, alcun rinforzamento della range hybrid? Per esempio, abbiamo anche credo che hybrid vi assicurare un role nel tranzitio fase per la formalità del cambio di drive per l'energia per l'energia i combustionali, per esempio, integriamo a mild hybrid, come abbiamo fatto in Citaro, salendo up to 8.5% fuel, e aggiungo, se combina il gas engine, il natural gas engine, con un hybrid, sei ancora più amministrativo di oggi. Uno dei punti pezzi elettrici è la capacità di passaggio, che è più bassa perché del peso delle batterie. Quindi, puoi dire cosa è la differenza tra un diesel 12 m classico di Citaro e l'Electric Citaro? In l'Electric Citaro, abbiamo una capacità di passaggio di circa 80 persone, realizzamente, rispetto alla dimensione del veicolo. In l'Electric Citaro, normalmente, abbiamo più di 100 persone, quindi la differenza tra un Citaro electric drive e un Citaro con combustione, è circa 20 persone. fino a pochi anni fa, il full cell sembra essere il target di efforts di Daimler in campo di bus urbano. Molti eventi sono organizzati e molti rilassati sono presenti sul sviluppo della tecnologia full cell. Adesso, questo tipo di tecnologia sembra che sia arrivato alla fine della linea. Quali sono le ragioni? abbiamo ancora credito che nel futuro di questa tecnologia un uso del futuro del cello di combustione come fuori di potenza è ovvio per questo Citaro. L'Electric Citaro sarà testato durante tutto il 2018 e sarà in produzione seriale nel prossimo anno. è una storia di 20 anni che ora si trasforma in una nuova era. A presto! A presto. A presto! Grazie a tutti.